È diventato realtà il centro polivalente immaginato dall'amministrazione comunale all'indomani della decisione di abbattere la vecchia scuola accanto al municipio e di mettere così la parola fine al degrado dell'area. Per Fornelli si tratta di un risultato di notevole importanza poiché consente agli alunni di fare attività in un edificio sicuro. Al tempo stesso tutte le associazioni e cittadini potranno contare su un piccolo auditorium dove organizzare eventi di ogni genere ha sottolineato il sindaco Giovanni Tedeschi. È un importante progetto di riqualificazione dove c'era degrado dove c'era una struttura abbandonata adesso c'è una piazza di 700 metri quadrati una piazza pedonale la più grande del paese una struttura polifunzionale di oltre 300 metri quadrati con due aule di 40 metri quadrati e il cuore funzionale di questa struttura è la sala multimediale polivalente attrezzata per quanto riguarda la videoproiezione per quanto riguarda l'impianto sonoro con 100 posti a sedere che sarà messa a disposizione della locale scuola e non solo perché approveremo da qui a breve un regolamento comunale che consentirà anche le associazioni di poter utilizzare questa questa sala in orari extrascolastici. Durante la cerimonia inaugurale è stato presentato anche lo scuola bus che rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la comunità fornellese e il premio per la vittoria centrata all'ultima edizione della trasmissione mezzogiorno in famiglia. È stata una vittoria importante una vittoria di squadra un'altra scommessa vinta da parte della nostra amministrazione comunale di tutta la collettività che ha partecipato in maniera convinta e compatta a questa opportunità che è stata data. Come sottolineato dal primo cittadino la struttura sarà utilizzata in primis dalla scuola un altro decisivo passo in avanti sul fronte della sicurezza oltre che per la didattica ha detto il dirigente scolastico Ilaria Lecci. Qui a Fornelli ormai stiamo diventando baluardi della sicurezza io ricordo che tre anni fa ho inaugurato la scuola dove si trasferivano la primaria e la secondaria a distanza di tre anni un'altra bellissima struttura che sarà auditorium ma sarà anche altro anche museo interattivo digitale stiamo pensando a dei progetti da fare insieme scuola e comune molto molto interessanti. L'auditorium sarà a disposizione dei ragazzi di mattina e il pomeriggio e la sera sarà a disposizione di tutto il territorio e sicuramente una ricchezza. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad!